E enjoy signori Rando qui con voi che vi da il benvenuto in questa nuova puntata qui su FIFA Ragazzi avevo una fottuta voglia di farmi una partitina su FIFA 14 ancora nella versione demo Che ho già scaricato come vi ho fatto vedere nella prima puntata Quindi partiamo subito, questa volta ragazzi voglio fare Barcellona contro Milan Quindi partiamo subito e cerchiamo di vincere ragazzi Allora, gestione squadra, niente, andiamo avanti, andiamo avanti così non me ne frega niente, ok Ok, tendiamo a vedere di fare il tutorial Guardate la proezza Ecco l'ultimo che dovrà da fare stretto, tiro Ok ragazzi iniziamo subito, mi avevate detto di abbassare un po' il volume Diciamo del gioco perché sennò soffocava la mia voce, speriamo in bene Dai partiamo subito, allora vediamo subito a far vedere subito di che passa siamo fatti Con Barcellona, Messi Gomeraccio, attenzione, Pedro, attenzione già perde palla Ah ragazzi, è una cosa che... occhio sbagliato, scusate Aspettate un attimo perché mi sa che... no, va bene così Ho messo la difficoltà esperto questa volta, invece nella prima partita avevo messo la difficoltà normale Quindi mi sa che sarà più dura del previsto, diciamo più dura dell'ultima volta Quindi siamo attenti E chiede l'1-2, attenzione Oh, prova il sombrero volante, no, è sbaglia anche qui Guardate come ripartono, guardate Fermatelo, fermatelo Fermatelo Uh, piquet Bellissima la ripartenza, dai subito veloce, dai diamo Eh no, eh no, così, eh no, mi sembrava il mio l'arbitro Attenzione Uh, Valotelli, subito pericoloso E viene chiuso da Daniel Alves, perfetto Rimessa laterale In attacco, ti prego, dimmi che ce la facciamo Vai piquet Oh, via sta palla, non facciamo cazzate, eh Attenzione, Maxa sbaglia il pressing di Messi Messi lancia in profondità a Iniesta Attenzione Iniesta punta Vice rimpallo Prova Oh, ho sbagliato Sono un po' roggidito, ragazzi Attenzione al Sharawi che parte Che scambia con Gnocerino E lo rilancia In vantaggio piquet Eh, piquet, scusate Puyol Chiude E prende anche rimessa laterale Bene o male siamo usciti bene da queste situazioni Ok Proviamo a girare la palla Ragazzi, mamma mia, se è difficile Nella Nella a livello di difficoltà di attenzione Intanto Inserimento Busquets Ma Constant Lo sovrasta fisicamente Attenzione l'errore Uh Intanto ha rischiato questa volta abbiati l'errore Ah Chiusura Stupenda di Capitan Puyol Attenzione Neymar, Neymar Guardate quanto corre Ma non arriva in tempo Non ce la fa Dai, dai, dai Uh Guardate che non li faccio girare ragazzi Pressing estremo da parte dei Catalani Vediamo di chiudere E di riuscire a fare questo gollettino Ole Sbagliano anche loro ragazzi Sono sotto pressione Dai che ce la possiamo fare Facciamo girare palla con calma Ok Facciamo un movimento Tutti marcati molto bene Allarghiamo per Pedro Ok Nooo Mi sono girato male ragazzi Attenzione qui Vai chiudiamo No No Qua Oh È difficile ragazzi ripartire Guardate attenzione Passaggio indietro di Attenzione Usciamo negli incontri Bravo Va bene così dai Per essere esperto Primo tempo Barcellona Milan 0 a 0 ragazzi Penso che Sarà dura riuscire a vincerla Ma noi ci crediamo Continuiamo Andiamo avanti Dai, dai Su veloci Dai, dai, dai In attesa dell'uscita Del gioco ufficiale Questa è solo una prova Ragazzi Già mi sto innamorando Di questo gioco Ok Attenzione Piché Cattivo che entra Perfetto Usciamone Dai che possiamo ripartire Questa volta raga Messi Di nuovo per Neymar Che sbaglia L'appoggio Sbaglia il controllo Uh Sharaway Sharaway Attenzione alla sua velocità Piché prova a prenderlo Balotelli Pericolosissimo Ragazzi Uh Ma non è fallo Va sempre giù Come nella verità Ma che fallo è Questo qui Ma non è fallo È due metri Come fa a andar giù Fammi vedere Eh sì Va bene Appena lo tocchi Van Giusti Attenzione qui Attenzione Balotelli è la battuta Via 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 sta palla Mamma mia Proviamo a dare subito Su a Messi Che difende Che difende Mamma mia Ma quanto sono feroce Guardate Neymar L'ho visto L'ho visto Parte Neymar 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 Oh mamma Come sono feroci Come sono forti Dai che sia schierati Non possiamo sbagliare Attenzione Qua sempre loro prima Sulla palla Non va bene Così Dai Attenzione Dai che ce la possiamo fare Dai chiudere qua Dai che possono sbagliare E che si sbagliano Ok Attenzione Non perdiamoli El Charou E Balotelli Ok Pique Monumentale Pique Ok Questo è calcio Ragazzi Ok Continuiamo così Con Neymar Sul fondo Attenzione No Ma come fa Mi sto già incazzando Ragazzi Quando giocherò online Spaccherò tutto Mi sa Mamma mia Che palle Come fa a essere fallo Questo qui Dai 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 che ci crede Dai che ci credo ancora Dai che possiamo farcele Su Ok Mamma mia Esperto è davvero difficile Oh Contro il computer Intanto loro Continuano a fare i cambi Ma non può Poi Dai Un rimpallino Di fortuna Ok Neymar No Fuori gioco È lunga Anticalcio Dai Dai Eccolo lì Pedro Bravissimo In copertura Pedro Attenzione Il pressing alto Dai milanisti Giudì Ok Che passaggio è quello lì Amma mia Se sono Nub Mi sentivo Un fenomeno Quando giocavo Con una difficoltà Normale Adesso sono ripetato Scarso Improvvisamente Dai dai È finita Ragazzi Vediamo se c'è anche i supplementari Altrimenti finisce 0-0 Ragazzi questa seconda partita Non male però direi Sì possiamo continuare Ah ci sono direttamente i rigori Attenzione Neymar contro Biatti Neymar Ok Vaffanculo Cazzo che nervoso Ok Emanuele si trova al desk Vediamo se l'entuisco Lo para Adesso dove la tiro Pedro Basta sempre di lì E allora Dai che la portiamo a casa Dai che la portiamo a casa Muntari Dai Muntari Uuuuh E' scarso nella verità Ed è scarso anche nel gioco Prova a farmi il pallonettino Ma non ce la farà mai Messi Messi non lo sbaglia praticamente mai E lo mette all'incrocio Dai ragazzi che ci siamo 2-1 Dai ragazzi che ci siamo Escharawi Non mi muovo fino all'ultimo ragazzi Attenzione Uuuuh Era imparabile raga Anche se mi sarei fossi tuffato da quella parte lì Avrei sbattato rigore Non l'avrei mai parato Riproviamoci Il tiro Portiere da una parte Palla dall'altra Barcellona Barcellona sempre in mandato Anders Iniesta Ragazzi attenzione Se glielo paro è finita A Balotelli Non vedo l'ora Dai 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 Che non aveva sbagliato uno Nella sua carriera Ok Eh L'ha tirato da meraviglia Imparabile Mamma mia Se trema Chavi E' comunque in piedi sicuri Il tiro Attenzione Centrale Ed è vinta la partita ragazzi 2 su 2 E allora Spettacolo Abbiamo vinto ragazzi Meraviglioso Ok ragazzi Abbiamo vinto anche questa seconda partita Anche a livello esperto Ovviamente è la partita priva di emozioni Perché è veramente equilibrata Ma ai rigori l'abbiamo vinta ragazzi Quindi niente Ho voluto registrare questa partita Io vi dico che Non voglio più tritarvi Penso che per questo episodio Possa bastare Da random E' tutto Enjoy ragazzi